Come configurare una stampante HP su rete wireless con HP Smart in MacOS. Se si desidera configurare la stampante HP sulla rete wireless per stampare dal Mac, è possibile eseguire questa operazione in tre semplici passaggi. Passaggio 1. Installazione dell'applicazione HP Smart. Passaggio 2. Preparare la stampante alla connessione di rete. Passaggio 3. Associare la stampante in uso ad HP Smart. Passaggio 1. Installazione dell'applicazione HP Smart. Se non si dispone già dell'applicazione gratuita HP Smart sul computer in uso, è possibile scaricarla dall'App Store o da 123.hp.com. Quando si apre l'applicazione per la prima volta, è necessario accettare i termini per continuare. Una volta raggiunta la schermata di accesso, è possibile configurare una nuova stampante, effettuare l'accesso o creare un account HP oppure selezionare Rinvia per ora. Selezionando Rinvia per ora, viene visualizzata direttamente la schermata principale dell'applicazione HP Smart come ospite e sarà possibile creare un account in un secondo momento. La creazione di un account consente di accedere a più funzioni di stampa HP Smart, come la scansione. Per questo video, proseguiremo creando un account. Selezionare Accedi. Quindi Crea account. Inserire le informazioni personali e selezionare Crea. Viene quindi inviata un'email per convalidare il proprio indirizzo. Aprire l'email e selezionare Verifica. Tornare all'applicazione HP Smart e aggiungere il proprio numero di telefono, se si desidera. Quindi, selezionare Continua. Si presenterà la schermata principale dell'applicazione HP Smart. Passaggio 2. Preparare la stampante alla connessione di rete. HP Smart può eseguire solo l'associazione con stampanti rilevabili sulla rete wireless. A questo scopo, è necessario abilitare la modalità di configurazione Wi-Fi per la stampante in uso. Accendere la stampante. Il processo per attivare la modalità di configurazione Wi-Fi varia a seconda del tipo di stampante. Per le stampanti con un menu touchscreen, accedere al menu delle impostazioni o all'icona dell'ingranaggio. Quindi selezionare il menu Impostazioni di rete. Selezionare Ripristina impostazioni di rete. Quindi, selezionare Sì. Per stampanti senza un display touch, premere il pulsante Annulla per riattivare la stampante dalla modalità Pausa. Premere e tenere premuti i pulsanti Wireless e Annulla contemporaneamente per 5 secondi. In alternativa, per le stampanti LaserJet Pro, tenere premuto il pulsante Wireless finché le spie pronto e attenzione non lampeggiano contemporaneamente. Rilasciare i pulsanti per ripristinare la modalità di configurazione Wi-Fi. Per stampanti con l'illuminazione del bordo anteriore, premere e tenere premuto il pulsante Wi-Fi sul retro della stampante per 5 secondi. Quando la stampante entra in modalità di configurazione Wi-Fi, l'illuminazione sul bordo anteriore lampeggia e cambia colore. Passaggio 3. Associare la stampante in uso ad HP Smart. Ora che la stampante è in modalità di configurazione Wi-Fi, tornare al Mac. Accertarsi che Wi-Fi e Bluetooth siano abilitati sul computer in uso. Nella schermata iniziale di HP Smart, selezionare Aggiungi stampante. HP Smart inizia la ricerca di stampanti sulla rete. Una volta visualizzato il modello della stampante, selezionarlo. Quando la stampante è stata connessa alla rete, selezionare Continua. Se la stampante supporta i servizi HP più o HP Instant Ink, l'utente visualizzerà delle schermate per effettuare la registrazione. Se viene richiesto di installare un driver di stampa, selezionare Stampanti e scanner. Si viene quindi indirizzati al menu delle impostazioni della stampante Mac OS. Selezionare Aggiungi dispositivo e selezionare il modello della stampante per installare il driver. HP Smart ha terminato la configurazione della stampante sulla rete e riporta l'utente alla schermata principale. Ora è pronta per stampare. A questo scopo, selezionare il riquadro Stampa documenti o Stampa foto e selezionare l'elemento da stampare. Regolare le impostazioni di stampa nella finestra di anteprima e selezionare l'opzione di stampa. Viene stampata la foto o il documento. Altri video utili sono disponibili sul canale YouTube di HP Support.